ciao benvenuti nella magica atmosfera del mio lab oggi vi propongo un facilissimo lavoro fatto con sedie di recupero in ferro sono sedie relativamente vintage moderne si moderne naturalmente si possono utilizzare anche sedie nuove quello che desiderate potrebbero anche non essere in ferro ma avere semplicemente un bello schienale che volete valorizzare con un progetto che non sia troppo difficile e questo è il caso e allora vi mostro il progetto spero che vi piaccia o che vi dia l'ispirazione per un progetto tutto vostro quindi grazie e un bacione vi lascio al video ciao ecco la composizione ideale quella che sarebbe stata la composizione ideale ovvero ad angolo però avrebbe richiesto un certo lavoro quindi io ho deciso di semplificare perché questa era anche l'intenzione fare un progetto semplice e ridurre le sedie a due ecco qui la prima sedia comincerò togliendo un bracciolo solamente da un lato quello che vedete segnato qui il lavoro è piuttosto semplice basta avere un normale segaccio una sega per ferro i punti in cui il bracciolo è unito alla sedia sono solamente due vicino alla seduta e vicino allo schienale quindi piuttosto semplice in pochi minuti si elimina questa parte senza troppa fatica naturalmente bisogna ricordarsi di passare una lima in questo caso una lima bastarda cioè quella piuttosto grossolana per togliere le asperità come vedete fare in questo momento ecco qui dopodiché farò la stessa cosa su un'altra sedia ma dal lato opposto quindi toglierò questo bracciolo adesso mi preparo per dipingere per ridipingere di verde la sedia ho utilizzato una carta vetrata di media grossezza per togliere il verde che veniva via in questo momento sto isolando la seduta perché non mi interessa colorarla utilizzo un prodotto spray che è sempre molto comodo ecco non fate come me che la prima passata di verde l'ho data praticamente in interno indoor nel mio caso è stato necessario perché stava piovendo e io dovevo assolutamente iniziare il lavoro però non fatelo non fatelo ed usate la mascherina non fate come me il lavoro fa fatto in esterno io stessa l'ho terminato in esterno prova di composizione quello che desidero è che le due sedie combacino nella seduta cioè le due sedute siano affiancate in questo modo vedete e anche gli schienali per un fatto estetico anche ora sto prendendo le misure per acquistare un pezzo di legno una esattamente una lastra di legno ok per unire le due sedute e incollarle in modo da dare stabilità e solidità a questo mini divanetto ok userò una millechiodi che è quella che ho una colla già in dotazione potete usare la colla che desiderate questa millechiodi bianca c'è anche la millechiodi trasparente che quindi insomma è molto conveniente se volete provare l'effetto trasparente e riempitivo perché questa colla è anche riempitiva si può dipingere sappiate che è una colla che una volta asciutta può essere dipinta in questo caso di verde io l'ho fatto dove si vedeva l'ho fatto le tavole vanno la tavola va velocemente carteggiata e poi dipinta questo si può fare anche prima è evidente ma dipinta del colore dei cuscini che io ho trovato presso lo shan non ne ho trovato un intero ma ne ho trovati due vedete che fanno una bella coppia un colore grigio come il colore che ho scelto per dipingere le parti esposte della tavola un grigio corda direi ecco qui ed è finito è finito vedete un lavoro semplicissimo e praticissimo declinabile mille modi e io spero che vi sia piaciuto e ciao e adesso però direi che faccio anche la prova sì sì la prova è riuscita alla prossima ciao ciao